La leggenda della vera croce, il ciclo di affreschi di Piero della Francesca conservato nella cappella di San Francesco di Arezzo, a breve sarà nuovamente visitabile. È infatti prevista per il prossimo 10 luglio la riapertura della cappella Bacci. Un lento ritorno dunque alla normalità dopo oltre quattro mesi di stop anche per i siti museali aretini che ovviamente dovranno seguire le stringenti direttive imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del Covid-19. Tra queste ci sono quelle che riguardano il distanziamento sociale e il numero massimo di presenze in contemporanea nello stesso luogo. Per quanto riguarda la cappella Bacci, le visite non potranno così accogliere gruppi superiori alle 12 persone, pronti a riaprire le proprie porte ai visitatori dal prossimo 10 luglio, anche la Casa Museo Vasari, il Museo archeologico ed il Museo di Arte Medievale e Moderna. È questo dunque un primo ma fondamentale passo per il futuro della vita turistica e culturale della città, visto che ogni anno un importante numero di visitatori arriva ad ogni angolo del mondo per ammirare le bellezze conservate nei siti museali aretini.